C'è un'altra cosa, e poi ne fanno un'altra. Ci sono persone che dicono di fare una cosa e poi ne fanno un'altra. Parlano per anni. Sono tutti così. C'è fatto tutti i paesi. Mi ha saltato uno. Due ore e mezza ci ho messo, una mezza. Mi ha messo a casa, Stefani. Proprio stile 900. Stile mia zia. Tanto non ho pagato il biglietto. E com'è fatto? A cosa? A non pagare. Non avevo sudi, non l'ho pagato. Questa la laviamo bene e ci dura tre giorni. Forse due. Questa è professional. La bottiglietta ce l'abbiamo, sì. E' presente quelli che non ce la fanno più, che prendono, ammazzano la moglie, i figli e poi si sparano un colpo in testa. Qui ci sono arrivato un tanto così. Un tanto così ci sono arrivato. Stai! Aiuto! Stai! Stai! Sai cosa è successo una volta in una dita scolastica? Ho trovato il teschio di un uomo seppolto nel terreno. E non sai di chi era quel teschio? Non ci crederei mai. Era il mio. Secondo loro ero io morto. Voi vi affannate ogni giorno. Si sforzate a vedere cose che non ci sono. Adesso non ci si può più avvicinare alle persone. E chi si è mai avvicinato. Mi stai oscillando. Cioè io ti voglio bene. Mi stai oscillando. Non lo vedi che sto ballando? Buona renda eh. Non lo vedi che sto ballando? E mentre parlo sento la tua voce. Mi parla di nuovo dal tempo passato. Ancora dentro di me. M